Benvenuti ragazzi in un altro video di Assassin's Creed Real Life Vi voglio dire che questa serie uscirà ogni domenica a mezzanotte Abbandono le ciocce, oggi cercheremo addominio Collega, spieghi come sarà Allora, addominio consisteva in prendere la pietra preziosissima dal cerchio E il capo deve entrare nel cerchio a prendere, diciamo a superarmi combattendo Esattamente, io devo prendere la pietra e portarla qui davanti allo schermo Se lui mi colpisce tre volte sono fuori Lui ha cinque cuori, perché è il juggernaut, possiamo dire Io ne ho tre, quindi io devo prendere la pietra e portarla qui Iniziamo Pronto collega? Detto anche Alta Lui ha cinque cuori e io ne ho tre Sta un po' difficile Allora ragazzi iniziamo Dobbiamo presentare le nostre armi, come sempre Questa è la spada classica romana La tua? La mia è una spada bizzontina Leggera, da usare in combattimenti molto veloci E collega, fra qualche video ti vorresti far mostrare la faccia? Sì dai Vediamo Se questo video ha raggiunto i due like entro un'ora Sì Dai andiamo Via Non è successo dietro qui Ahia, ahia Raga faccio che anche io ciclo perché perché è impossibile? Vai Vai Ma devi sempre arrabbiare un gioco Ok Andiamo, andiamo No, vieni, vieni, vieni Raga ma in ogni video ti devo rompere qualcosa, non ho capito Cioè Guardate Cioè Il falco Stava qui, no? Raga in ogni video ma che chiaro No, no, no Si riattacca Si riattacca Eh sì Si riattacca Si riattacca, guarda Fatto Dai, scuoti Guarda Guarda Dai, ricominciamo Quattro item Allora Ci ho detto Che l'ho ritacchiato con l'atac Vai Guarda 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 Mi sono fatto troppo male il tito Guardate Vai Sì Ha recuperato la pietra Secondo gioco Mi ha fatto malissimo qui ragazzi Porca tue Ragazzi Ora faremo il secondo gioco Raga Allora siamo davvero giusti Ora Mettiamo un attimo di posa del video Appunto tra virgolette Stopperemo il video E ora Ci vediamo tra un po' Grazie 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 Ok ragazzi Eccoci Abbiamo inventato un altro gioco E' un po' Con lo stesso Con la bocchiglia di coca Che vedete Io devo cercare Di colpirla Con la spada E facendo E buttandola fuori dal cerchio Esatto Sarebbe questo cerchio fatto in terra Che abbiamo fatto noi Dovevamo altro da fare Ok Comunque Ma colpite vale? No Solo con la spada Ok Solo con la spada Let's go Let's go Con la spada Ah Bucigione Ok Quindi Mi puoi provare A presto Adesso è un grande Te l'ho notato Un altro gioco E' forte Andiamo con lo salato E' più pesante Calma Calma . 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 il video è finito qui ragazzi mettete due like per la parte 3 e ci vediamo ragazzi salutate anche il nostro amico sono un po' infortunato mamma mia la camera raga faremo la terza parte tranquilli sicuramente ciao ragazzi chiuditi il video ok bella raga